Come avrete visto, io ultimamente sto cercando di postare spesso E prima ero sul profilo di Astole e mi sono accorta che lui non posta da quasi un mese Quindi... Amore! Tu quando e che posti? Il salvis! Allora amici, siamo pronti ufficialmente a fare la storia Direttamente dalla Capanina Beach Eccolo, eccola Per l'occasione è uscito anche il sole Basta Ecco Ho detto stasera cucino io e ho bruciato il pane Spero di non... che le uova escano bene Stiamo arrivando Stiamo a-ri-va-ndo A-le-a-le-andale VAMOS Next stage Allora raga Il 3 luglio esce una nuova canzone di Astole con Emma Sangria E la storia di Astole è bellissima per carità Però mi ha fatto un po' ingelosire quindi ho deciso di fargli scherzi tutto il giorno Aspettate i vostri consigli Io non ho già fatto uno stamattina E adesso per lo pubblico Che e che da, va a mandare Di sembra, di sembra, di sembra, di sembra, di sembra, di sembra, di sembra e di sembra chi li ha fatti gli involtini? io buongiorno buon pomeriggio sembra che mi sia appena svegliata in realtà sono svegliata prestissimo vi giuro erano tipo mesi che io non mi svegliavo così presto ho appena finito di fare tutto quello che devo fare tantissime cose che vorrei non me lo vieta vabbè cose e finalmente sto andando un po' al mare anche se cioè sto andando al mare io ed è diventato improvvisamente tutto nuvoloso e grazie comunque stiamo andando al mare la voglio tirare a 4 a 0